Benvenuti da Gianluca Sposito di Edizioni Intra. Storia della colonna infame è un saggio storico di Alessandro Manzoni, pubblicato come appendice ai promessi sposi nella sua edizione definitiva del 1840 in una sorta di continuità necessaria. Le vicende narrate sono coeve al periodo storico in cui è ambientato il romanzo, il XVII secolo. L'opera infatti narra del processo ai presunti untori milanesi Guglielmo Piazza e Gian Giacomo Mora e agli altri da loro trascinati nel processo nel tentativo di scappare alla condanna, torturati e barbaramente uccisi a Milano nel 1630. Il titolo deriva dalla colonna che fu eretta nella zona della vetra, l'attuale via Gian Giacomo Mora, suo ordine del senato milanese, come monito, monumento appunto, a ricordo della sentenza. Solo nel 1778 la colonna infame, ormai divenuta una testimonianza di infamia non più a carico dei condannati ma dei giudici che avevano commesso un'enorme ingiustizia, fu abbattuta. Già trattata da Pietro Verri nelle osservazioni sulla tortura da lui lasciate inedite e pubblicate nel 1804, la cronaca della vicenda che Mazzoni ricostruisce principalmente basandosi sugli estratti del processo pubblicati nel 1633 dall'avvocato di Don Giovanni Gaetano De Padilla, imputato eccellente e pertanto assolto del processo, si alterna ad ampi excursus storici dedicati alla legislazione relativa alla tortura e in particolare al ruolo dei criminalisti, ossia degli interpreti delle leggi a cui di fatto, in assenza di una legislazione cogente, si rifaceva la pratica criminale corrente. La riflessione manzoniana, caratterizzata da uno spiccato senso morale, indaga l'etica e l'amministrazione della giustizia penale al tempo della dominazione spagnola della Lombardia, ma parlando dell'antica obiezione, egli ne fa una lezione universale, indagandone gli errori, terribili abusi e soprusi realmente accaduti a dei poveri cittadini innocenti. Riportando all'attenzione del lettore le iniquità commesse in questa storia dai singoli e dalla collettività, Manzoni mostra come le persone possano essere traviate da superstizioni e credenze fallaci. Buona lettura. Grazie a tutti.